Più di un anno fa il crollo di una campata del viadotto Italia provocò la morte di un operaio romeno di 25 anni, Adrian Mjolka, una giovane vita spezzata sul luogo di lavoro ed un caso su cui è chiamata la magistratura a fare luce e a stabilire eventuali irresponsabilità. Quel tratto di autostrada, in molti lo ricorderanno, venne sequestrata e chiusa solo dopo qualche mese e un periodo di tempo fatto di perizi e lavori, il tratto della A3 venne riaperto. Intanto le indagini proseguono ed è stata depositata in procura la consulenza tecnica sul viadotto Italia. Toccherà ora al procuratore capo di Castrovilla, Eugenio Facciolla, capire se e dove ci sono stati errori o responsabilità, se nei progetti e nella realizzazione dell'opera in origine, ovvero negli anni 70, se nella demolizione per la ricostruzione del nuovo tracciato o altro ancora. Un'indagine quindi non certo semplice e che, in buona sostanza, è appena iniziata. Solo in futuro sapremo se effettivamente ci sono delle responsabilità e di chi.